cari amici buona giornata a tutti buon martedì vi invito tutti oggi al mio youtube canale sottoscrivetevi e ascoltate i miei video nuovi che ho pubblicato in questi giorni sulla medicina naturale sui prodotti erboristici e quello che oggi parlerò sul youtube sono i prodotti e il terreno come ridurre i farmaci con il consenso del medico ordinario e iniziare a prendere la medicina naturale quali sono le interazioni quali sono le contraindicazioni come si deve comportare in questi casi come funziona la fisiologia umana eccetera eccetera oggi sul mio canale youtube vi invito tutti specialmente quelli che hanno dei problemi di salute quelli che vogliono in prevenzione rinforzare un po con l'immunità il sistema immunitario o quelli che la terza categoria che prendono i farmaci che sono che dipendono dai farmaci con le malattie croniche come ridurre i farmaci cioè come prendere paralelmente i prodotti naturali senza danni collaterali perché il problema è la interazione ma il problema anche è quello di non prendere tutto perché la gente è molto multifunction popolare a fare cose che non stanno bene per il nostro corpo e il nostro organismo in generale perché prendendo i farmaci del medico ordinario poi prende ancora un po di prodotti erboristici un po di 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 piante esotiche un po di piante mediterranee eccetera eccetera in tal punto l'organismo è confuso non sa più la fisiologia come comportarsi perciò i nostri consigli come ascoltateci youtube oggi